SIGLA in destra 3 meno subito sinistra 2 più in destra 3 40 sinistra 3 più 40 pista sinistra destra 3 più subito sinistra destra 3 chiude torta a destra stretto 70 pista al collo destra 3 sinistra 3 subito destra 3 meno 50 sinistra 3 meno gira per destra 3 meno meno in sinistra 3 70 destra 4 2 tempi tieni a sinistra 3 gira 3 meno gira in destra 3 meno 70 all'osso sinistra 3 gira in destra 3 meno e sinistra chiude torta a destra sinistra all'osso stretto per destra per destra per destra subito sinistra 3 dietro in destra 3 tieni e sinistra a destra 3 più sinistra 3 meno meno subito destra 3 meno vai 80 sinistra 3 costa 40 destra 3 e sinistra 3 meno meno gira subito sinistra 3 in destra vai in cento a pista al verde destra 3 80 tornate destro tornate destro stretto 70 a pista al cartello sinistra 3 gira 120 a pista al rosso sinistra 3 più per sacrifica per sacrifica destra 3 tieni subito tornate a sinistra stretto di sinistra destra 3 più vai 100 al rosso destra 4 meno per non verde tornate destro stretto 30 al cartello sinistra 4 in destra sinistra 3 più 40 sinistra 4 chiude tornate sinistro subito destra 3 più 30 destra 3 50 a pista destra sfatola meno 70 ritarda sinistra per la gira 30 destra 3 per sinistra 3 apre 4 tieni subito destra 3 70 tornate destro stretto 70 a pista al rosso sinistra 3 gira 40 sacrifica destra 3 più subito sinistra 3 lunga gira in destra in destra 3 mai 150 a pista a prelincio in fondo tornate sinistro stretto 100 a pista a cartello sinistra 4 più più 80 sinistra 3 più 40 tornate destro stretto 40 40 destra 3 più 100 a pista al cartello tornate sinistro 80 bravo destra 5 meno subito sinistra 3 più 40 tornate destro stretto 30 30 anticipa sinistra 3 più subito destra 3 40 destra 5 lunga chiude tieni subito tornate sinistro 40 40 al rosso sinistra 5 40 destra 3 più subito sinistra 3 e destra 3 più lunga gira 50 sinistra destra 3 più per sinistra 3 meno meno intorno al destro stretto 20 destra 3 e sinistra destra 3 più 40 sinistra 3 più gira pieri per destra 3 meno gira subito sinistra 3 pari 80 vista sacrifica destra 3 più subito a casa sotto tornate sinistro cento a pista a mano destra 3 più 30 sinistra 3 gira 30 destra 3 più per sinistra destra 4 per sinistra destra 3 40 40 destra 3 subito sinistra e per meno per tornate destro stretto 30 destra sinistra 3 più 40 per tornate sinistra 40 destra 3 più apre 2 tempi tieni subito sinistra 3 30 a rosso destra 3 gira per sinistra 3 apre 3 più tieni subito anticipa destra 3 più 2 tempi chiude per sinistra 3 30 destra 4 più 50 sinistra destra 3 più 70 pista al palo ora 5 alla destra 4 più sinistra 5 lunga 40 al giorno sinistra 3 gira piedi destra 5 più più chiude 4 meno subito sinistra 3 più per albieri destra 3 meno e sinistra non è più lunga per portante destro 50 retarda destra 3 subito sinistra 3 in destra 4 mai 80 al rosso sinistra 4 chiude meno meno per inizio tunnel destra 3 meno meno in anticipo a sinistra 3 mai 120 al cartello sinistra 4 più 30 destra 5 chiude per sinistra 4 meno subito destra sinistra 4 per destra 4 più mai tira tira ora 200 in fondo finirei destra 4 per sinistra 4 4 più lunga tieni 40 destra 3 più 80 a cartello ritarda sinistra 3 più più gira tieni 150 pista destra 3 più apre 4 80 albini destra 3 meno gira 70 pista all'albero sinistra 4 50 pista anticipa sinistra 4 meno lunga 2 tempi chiude mai 200 intendo scicara ingresso destro per 3 occhio eh ritarda sinistra 4 lunga chiude subite 30 sinistra 5 6 7 9 8 10 11 11 11 12 12 Grazie.